Caralina, circa un mese è passato senza avere nessuna corrispondenza. I Lucani sono un popolo che ha una sua particolare visione della propria identità, cioè continuano a sentirsi Lucani, anche a migliaia di chilometri di distanza, anche al di là degli oceani, anche con il passare di due, tre e ormai quattro generazioni dal grande momento dell'immigrazione. 60 anni fa il bambino di Matera era destinato per la sua lontananza da tutto, non soltanto una povertà fisica, ma soprattutto una povertà intellettuale. Sentirsi nominare Matera, che diventa la capitale europea del 2019, per me è un'emozione. Matera non vincere con il più grande problema, ma era l'entusiasmo delle persone locale e la storia dietro di un paese abbandonati e dei problemi economici che collettano queste persone insieme. Se Matera riuscirà ad essere il punto di riferimento per tutto il sud, come alcuni importanti progetti del dossier di candidatura hanno indicato, io credo che sarà un'occasione davvero di una svolta nella storia di questa comunità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.